Finalmente ci sono ottime notizie per il CROB e quindi per i cittadini del Vulto e Melfese di tutta la Basilicata. Faccio questo breve video per informare e riepilogare alcune delle tante novità. Lo faccio perché in questi mesi ho lavorato moltissimo politicamente affinché il CROB venisse potenziato. Quindi permettetemi anche di ringraziare il Presidente Bardi per aver recepito le proposte. Mi limito a evidenziare solo alcune delle novità che prevedono un investimento per oltre 7 milioni di euro, un nuovo piano di assunzioni per oltre 100 nuovi professionisti a tempo pieno, lo svolgimento al CROB di nuove attività di chirurgia, riabilitazione e terapia, il completamento della struttura di dei center per oltre 1100 metri quadri da destinare all'assistenza e l'aumento di quasi 50 posti letto. In ultimo, ma non per questo meno importante, il potenziamento della struttura scientifica per il mantenimento dello status di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Nella descrizione di questo video riporto nel dettaglio tutte le iniziative che la Regione porrà in essere per potenziamento del CROB. Grazie. Grazie. Grazie.